Ciao a tutti e benvenuti, Milano San Siro e Milan Fiorentina. All'andata è stata brava a vincere la Fiorentina. Al ritorno dobbiamo evidentemente rimediare in una circostanza molto importante per la nostra stagione. Si gioca. Messias, Messias, area di rigore, Messias, palla di qua, Brian Liaz, il tiro deviato, Teo, area di rigore, Teo, Teo, il tiro di Teo, il gol! Ha segnato Teo fuori gioco. Ha segnato Teo fuori gioco, non l'hanno fermata prima. Ecco il cross, il colpo di testa, attenzione ragazzi! Occasione enorme per Igor, un tiro tracciante tremendo che ha sfiorato il palo di Mignone. Leao prova ad andare, Leao salta Nico Gonzalez, ecco Leao, Leao spariglia, Rafa, 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 dentro! Brian Liaz, Teo, fuori, fuori ragazzi, avevamo Leao libero, avevamo Leao libero. Chessi, Chessi, dentro, Giroud, Giroud, fuori, 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 lui l'ha toccata convinto di far gol. Saponara da solo, palla letale, palla mortifera, Saponara, il tiro, la grande palata di Mignone, poi salva, Chessi! Tre contro tre, Brahim, tre contro tre, Brahim, Giroud, Leao, Leao! Alza il braccio Teo, esce Terracciano, Calabria, Giroud al volo, Giroud la difende, la alza, Chessi! Alla di rigore, Chessi, la palata di Terracciano! Enorme occasione, Chessi, contro Terracciano, enorme! Tonali, Tonali se ne va, Tonali se ne va, Tonali se ne va, Tonali, bella palla, Teo, 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 Teo alto! L'amoroso alto, l'amoroso alto! Prova a servire, Bonaventura, Bonaventura serve Viraghi, attenzione ragazzi vi prego, palla messa in mezzo, troppo di testa! La parata meravigliosa, miracolosa di Mignone, Cabral aveva quasi fatto gol, Mignone ha detto no! Lancio lungo di Terracciano che sbaglia, Leao, 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 il tiro! Gol! Gol! È il momento più bello del mondo! Gol! È il momento più bello del mondo! Irina Te Amo, diceva Gabriel Battistuta, questa volta l'abbiamo fatto noi! Milan diamo! Milan diamo! Milan! Milan! Sì! Palla dentro, Mignone, Mignone l'ha presa, è finita! È finita! È il momento più bello dell'anno San Siro! È un momento meraviglioso, i milanisti sono felici, i milanisti vibrano, i milanisti sono belli come il sole! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!